Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio particolare dedicato a un re vichingo, apostolo della Norvegia, come recita il sottotitolo. Si tratta di Olaf Trigvason e spero di averlo detto bene, pubblicato da pochissimo da Grafe Edizioni e l'autrice Carla Del Zotto è la nostra graditissima ospite di questa puntata. E quindi io come mia abitudine non rubo altro tempo all'autrice perché ci parli di questo interessante personaggio poco noto ai più. Professoressa, a lei la parola. La ringrazio. La sua pronuncia del nome Olaf Trigvason è stata perfetta. È un re che regna per pochissimo tempo perché sono appena cinque anni. E secondo poi una tonologia che dovrebbe tener conto delle fonti anglosassone, in realtà il suo regno dovrebbe terminare nel 999 più che nell'anno 1000. Però questo poi ci porta al problema della divisione dell'anno civile in Islanda e i cronisti di storia ci seguono questa tonologia islandese. Per cui l'anno civile iniziava il primo settembre e questo quindi se da una parte conferma il 999 sono logicamente in senso lato. Dall'altra parte però rende anche esatta il computo all'anno 1000 secondo appunto questo modo di contare l'anno, di registrare l'anno civile a partire dal primo settembre. Per cui da un lato noi abbiamo che un anno è diviso in due settembre, quello invernale e quello estivo, però ecco all'interno di quello estivo si verifica che inizia il nuovo anno civile. E quindi questo per rendere ragione di quanti trovassero a volte indicata la fine del regno di Olaf Trigvason nel 999 invece che nel 1000. Questo re è un personaggio legato alla promozione del cristianesimo non soltanto in Norvegia ma in tutte le isole atlantiche e sostanzialmente ha anche una fama di santità, una santità che però non viene riconosciuta, primo perché non fu mai trovato il corpo dopo la battaglia navale di Spoglio. E poi perché sostanzialmente non si raccontano miracoli accaduti più o meno in luoghi dove potrebbero trovarsi dei resti di questo sovrano oppure sono luoghi che potrebbero essere legati alla figura di questo sovrano. Quindi diciamo che viene considerato beato da alcuni storiografi medievali e questa mancata tantità sembra qualcosa di costruito anche per attrazione da un'altra figura che insieme a Olaf Trigvason si lega alla cristianizzazione della naveta che è quella di Olaf Arason il santo che muore nel 1030. Quindi questi due sovrani hanno molto che li accomuna, in primis questo zelo evangelizzatore e poi questo loro desiderio di rendere la Norvegia un regno unificato e sostanzialmente libero dall'influenza danese. Un'influenza danese che si esercitava nell'area dell'agito, ovvero intorno a Oslo e si esercitava da tantissimo tempo anche perché in animali abbiamo sovrani importanti. Pensiamo appunto a Arad Gormson, dente nero, normalmente è detto dente blu, ma questa è un'inesattezza perché per esempio Bloland, terra blu, traduce in effetti africa, quindi questo colore, per virgolette blu, è un sinonimo per nero. Quindi in effetti questo Arad Gormson, dente nero, appunto aveva un dente livido come specificano i cronisti che scrivono in latino. Pertanto noi abbiamo che questa influenza danese che rende tributari questi re di Norvegia era un ostacolo alla possibilità di realizzare un regno unitario e completamente libero da questa dipendenza dai re di Danimarca. Non è un caso che sia Olaf Friedberg, sia Olaf Harrison, il santo, muoiano combattendo contro delle coalizioni che sono formate da danesi con svedesi e una parte di norvegesi. Questo perché in realtà, al di là dell'evangelizzazione, il progetto di accentrazione, di creazione di un forte potere monartico viene a mettersi in contrapposizione con queste spinte di autonomia, di indipendenza, propria di proprietari terrieri più o meno importanti e pone in gioco tutta una serie di regole, di rapporti tra quella che è l'aristocrazia terriera esistente nel paese e quella che è la figura del re che viene ora ad essere costruito secondo dei modelli di sovrani europei, continentali, secondo una nuova ideologia religiosa per cui l'investitura del potere regale è qualcosa che promana da Dio. Quindi abbiamo tutta una serie di nuove dinamiche che vengono a entrare in gioco proprio con questi due sovrani, a partire con Olaf Friedberg. Olaf Friedberg, come poi il successore, Olaf Alasson, il santo, di santo a ben poco perché ha una carriera di vichingo, di guerriero, di pregone che è piuttosto intensa e insomma questi suoi viaggi lo portano tanto a Occidente quanto anche a Est, verso appunto la Russia o meglio verso questo principato di Novgorod, Kiev, dove noi abbiamo sì la possibilità di parlare di principi della Russia, utilizzando il suo termine slavo, vedendo in questa Russia una creazione, la creazione di un'entità politica che originariamente aveva elementi scandinavi come uomini che fondavano questi regni, poi però appunto anche a Est questo elemento scandinavo si assimila velocissimamente sia con le figue slave ma anche con quelle baltiche finniche che troviamo a Oriente e pertanto poi prevale nello spazio di poche federazioni una predominanza di nomi originariamente scandinavi ma in una forma slavizzata. Quindi Olaf Jefferson va a Est perché già piccolissimo in giovane età deve sottrarsi appunto alle possibili insidie di pretendenti al trono e quindi ha questa fuga rocambolesca non per niente poi la sua fuga sarà paragonata dai monaci islandesi che scrivono la sua biografia come una sorta di vita di appunto di un santo, sarà paragonata appunto alla fuga di Gesù bambino in Egitto e ovviamente insomma è un po' un'esagerazione geografica però questo è il tono di quella che è stata la saga di Oderson, questo monaco benedettino che scrive appunto intorno al 1190 questa sua vita che in latino non c'è pervenuta però c'è pervenuta nelle traduzioni che sono state fatte in volgare. Ora perché poi tutta questa storiografia e anche queste particolari biografie così con forti toni aggeografici datano tutte nel XII secolo perché sostanzialmente nel XII secolo noi abbiamo un evento importante ovvero nel 1153 viene creato il primo arcivestone in Norvegia e che significa rendere indipendente la Norvegia per quanto riguarda la politica appunto ecclesiastica la nomina dei vescovi, renderla indipendente dalla Danimarca perché in Danimarca era stato fondato sostanzialmente l'acide scovato di Lund. Lund è nella Scania, la Scania è la regione meridionale della Svezia però all'epoca era un possedimento danese e quindi d'altra parte questo acide scovato fondato a Lund per interessamento del re danese eric sempre buono era stato fortemente voluto come tentativo di affrancare questi paesi nordici dalla dipendenza dell'acide scovato di Hamburgo Brema quindi sostanzialmente dalla chiesa tedesca che poi significava anche rendersi più indipendenti da una certa politica filo-imperiale quindi ovviamente nel 1153 la creazione di questo acide scovato in Norvegia è un fatto epocale e era necessario illustrare quanto più possibile la convenienza di porre, di collocare questo acide scovato a Nidaros ovvero Lothierna Stonehenge perché lì erano conservate appunto le sfoglie di Olaf Arason il santo e a poco a poco insomma si crea tutta una tradizione storiografica e prendono prendono l'avvio saghe su Olaf il santo ma anche appunto queste saghe su Olaf il santo che ecco per attenzione con il suo ancor più illustre successore presentano questi tratti più o meno aggeografici storicamente Olaf Schurverson per esempio è il primo re che conia una moneta norvegese prima di lui non ci sono monete norvegesi che circolano in Norvegia e anche questa idea della Norvegia come paese unitario è qualcosa che si sta formando tutti parlano di Arad Bellachioma come il re che unificò la norvegia non è propriamente esatto egli avviò semmai questo processo ma non riuscì ancora a unificare tutte le genti e a creare un regno con una identità politica ben definita questo processo a mio avviso avviene con Olaf Schurverson e con Olaf Schurverson ed è un processo che nell'emergere di queste monarchie scandinave vede com'è importante proprio anche l'elemento della conversione al cristianesimo perché anche l'organizzazione ecclesiastica del paese aiuta a realizzare questa nuova visione del potere monarchico e insomma a organizzare il territorio e controllarlo insomma è un momento importante in questo processo evolutivo politico che storicamente vede appunto l'emergere di queste monarchie scandinave in particolare ecco del regno di Norvegia visto che il regno di Danimarca era già in anticipo su questa realizzazione d'altra parte la conversione appunto viene in Danimarca sotto re Aras Thornsson d'Antenero il quale fa scrivere quella iscrizione trionfalistica in grossi caratteri lunici sotto quella che sarà la prima rappresentazione del Cristo crucifisso anche se in maniera molto molto stilizzata molto particolare in cui dice ecco Aras che conquistò per sé tutta la Danimarca e la Norvegia e rese cristiani danesi ecco Aras Thornsson d'Antenero non conquistò tutta la Norvegia però rafforzò tutto la sua influenza nell'area della vita e chiaramente contro questa influenza danese appunto si mosse Olaf Shulverson e poi venne sconfitto in questa grande coalizione nella battaglia navale di scolto che cosa divertente nessuno sa ancora dove sia avvenuta esattamente probabilmente avvenne davanti alle coste popolate dai Vendi si sa che i Vendi sono i nemici vicini della Danimarca anche loro praticavano la pirateria i danesi e per esempio ecco la convenzione dei Vendi vista di questa popolazione slava sulle coste del Baltico fu vista come una possibilità di riuscire a vincere questo carattere di barbari, cursori, predoni e poter instaurare rapporti migliori diciamo che i danesi si convertono prima loro sono sotto la pressione di Ottone I addirittura Ottone I sembra minacciare un'invasione della Danimarca e allora Olaf Shulverson accetta di convertirsi e in questo modo rafforza il suo regno e rafforza anche la sua presenza in Norvegia nell'area costiera appunto della regione di Oslo Qualche altra domanda? è molto interessante anche perché siamo in un momento storico particolare in cui i cosiddetti normanni sono già insediati in Francia quindi ci sono forme di consolidamento di un potere centrale e poi invece forte movimento di popolazioni locali lì è davvero complesso riuscire a comprendere anche il modo in cui la Chiesa interviene nelle questioni di carattere politico e territoriale e mi pare di capire che il suo obiettivo sia sempre quello di consolidare delle forme di potere locale in grado di opporsi a quelle preesistenti per poter controllare meglio un territorio è complesso e poco noto questo periodo storico soprattutto in quei territori sì, indubbiamente c'è una grande distanza apparentemente geografica però negli ultimi decenni insomma molto è stato scritto molto si è letto questa nebbia che sembrava avvolgere i paesi nordici si è abbastanza diradata direi sì, io ricordo anni 70 avevo acquistato un libro dall'Islanda dovevo fare un valia internazionale per pagare questo libro e all'ufficio postale dissi sì, Islanda non Irlanda Islanda però insomma adesso penso che questa domanda non la sarebbe più nessuno è cambiato tanto, ci sono stati anche cantanti rock abbiamo visto la nazionale di calcio islandese qualche anno fa che ha fregato un po' tutti, no? ecco questo poi doppio mestiere dei calciatori calciatore dentista, calciatore postino insomma ecco, quindi quindi indubbiamente gli islandesi sono come dice già il saxo grammatico sono i custodi proprio della memoria storica di queste terre però il saxo che essendo danese è sempre un po' velenosetto aggiunge e sì, gli islandesi non hanno loro imprese di cui scrivere tanto quindi per questo si interessano molto a lui ecco, questa è la parte successiva di quella affermazione che apparentemente sembra essere una loda degli islandesi che tanta attenzione danno alle vicende storiche del passato del sì, anche loro, ma anche di altre genti insomma, Snorri Sturluson la cui raccolta di sedici saghe ogni sagha è una sorta di biografia individuale ecco, Snorri Sturluson in questa sua opera sembra essere la fonte per eccellenza della storia biografia nordica e così non è come scritte un noto studioso inglese Snorri illumina il passato ma se vogliamo avere proprio una conoscenza reale più corretta più precisa dei fatti beh, dobbiamo anche guardare allora altri conti altri testi ma sicuramente Snorri cerca di mettere in luce tutto quello che è avvenuto e a volte è certo un pochino aggiusta un pochino esagera un pochino scolora, potremmo dire ma per tanto tempo è stata ritenuta una fonte autorevolissima cosa che invece oggi si tende a riconsiderare anche se appunto è inscritti la storia di Norvegia è qualcosa che si legge sempre con molto interesse Professoressa, io se non ha altro da aggiungere credo che la cosa utile sia ricordare ai nostri videoascoltatori il titolo del suo saggio che è Olaf Tigvason soprattutto il sottotitolo per me è più facile Re vichingo apostolo della Norvegia pubblicato da Graf Edizione è un libro di 196 pagine che costa solo 15 euro e quindi si può facilmente acquistare anche per le tasche meno ricche le dice in tempi difficili allora concludiamo con un indovinello islandese qual è quell'oggetto che è silenzioso ma parla a tutti? l'oggetto silenzioso che parla a tutti io non lo so è il libro è il libro certo e questo non poteva che essere un indovinello islandese perché appunto per loro questa intenzione del libro credo che sia stata la forma migliore per conservare e tramandare fino a noi tutto quello che a loro è raggiunto anche per tradizione orale ma che senza l'invenzione della scrittura senza l'invenzione appunto del libro non sarebbe arrivato fino ai nostri giorni e tengo a precisare che questa intenzione del libro come la voglio chiamare io qui con una certa libertà ovvero la tecnica di storia la tecnica di fare l'inchiostro preparare la perchiamena proprio la conoscenza delle lettere latine della sapete latino tutto questo è arrivato con la condizione africanetimo se no saremmo ancora ai caratteri ludici con i quali Adel Domson pubblicizzava se stesso diceva io sono quell'Aras che ha conquistato tutta l'animazia e la Norvegia magnifico io la ringrazio tantissimo e spero che il libro abbia una bella diffusione e che spinga tutti gli appassionati di storia medievale ad affrontare anche i temi relativi al nord Europa che sono sinceramente un po' trascurati rispetto a quelli più importanti dell'Europa centrale o dell'Europa del Sud quindi la ringrazio davvero di cuore e ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troveranno anche questa video presentazione e spero di avere ulteriori opportunità di incontrarla in occasione di altri suoi interessanti lavori grazie ancora di tutto ringrazio lei per l'attenzione grazie infinita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti